Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale youtube allora ragazze, faccio una piccola premessa oggi sto girando il video con mio figlio quindi se sentite la sua vocina ecco vi chiedo scusa però io cerco di tenerlo sempre sotto controllo con me, faccio questo esperimento vediamo se riesco a girare un video con lui nel carrozzino, vediamo se sta buono o comincerà a checchierare come al solito oggi voglio parlarvi di come districare i capelli ricci e soprattutto quando i nostri capelli vanno pettinati come sapete il problema di ogni riccia sono proprio i nodi ma prima di parlarvi come ho risolto il problema dei nodi se vi fa piacere ragazze, mi raccomando iscrivetevi al canale youtube attivate la campanella così vi arriveranno tutte le notifiche ogni volta che verrà pubblicato un video qua sulla piattaforma youtube inoltre ragazze, se vi fa piacere e soprattutto se questi video li trovate interessanti mi raccomando lasciate un like di supporto al canale e oltre qui ragazze mi trovate anche su instagram al nome ricci e capricci 92 quindi direi di iniziare con la sigla allora ragazze, oggi è proprio la giornata giusta per girare questo video perché ho i capelli praticamente pieni e zeppi di nodi tantissime volte mi chiedete come soprattutto quando pettino i capelli ricci allora ragazze, voglio fare una premessa questo video è proprio stato creato in base alle mie esigenze e in base anche alla mia esperienza personale ovviamente ognuno di noi ha un pensiero diverso quindi magari qualcuno potrebbe non essere tanto d'accordo con me in questo video però ragazzi io vi voglio raccontare la mia esperienza allora ragazze, per iniziare io pettino i capelli da asciutte adesso mi immagino già tutte le persone che mi dicono no, i capelli da asciutti non si pettinano è vero ragazzi, non si pettinano se non utilizzate i prodotti e anche gli accessori giusti perché se voi andate a utilizzare una spazzola, un districante corretto non avrete assolutamente questo problema perché io distico i capelli da asciutti allora ragazze, ho proprio sperimentato questa cosa quando andavo a pettinare i capelli dopo la maschera o con il bassimo da bagnati prendevo praticamente un sacco di ciocche intere devo essere sincera che all'inizio non ci facevo caso ma con il tempo ho veramente cominciato a diventare un problema per me così mi sono informata un pochino su quali spazzole potessero essere utilizzate con i capelli asciutti e così ne ho acquistate alcune finalmente sono riuscita a trovare la spazzola ideale per me e devo dire ragazze che per me è stata una rivoluzione perché non solo vado a pettinare meno capelli quando li lavo da asciutti scusate, quando ripettino da asciutti ma soprattutto i miei capelli non si spezzano più come una volta e quindi finalmente riescono a crescere più lunghi sembra diciamo qualcosa di banale ma in realtà ragazze per me ha fatto davvero la differenza quindi adesso insieme vi farò vedere tutti gli step che faccio proprio per andare a districare i capelli questa spazzola ragazze per me è stata rivoluzionaria perché ha proprio delle setole morbidissime una un pochino più lungo un pochino più cotte e proprio hanno diciamo il compito di andare a pettinare i capelli senza spezzarli e riuscire a togliere anche tutti i nodi anche più difficili ragazze io vi assicuro che dopo il parto non sono riuscita a lavare i capelli per almeno una settimana ragazze mi sarà formato un nodo che ho detto o lo taglio o lo taglio in realtà questa spazzola mi ha aiutato tantissimo quindi io davvero ragazze ve la consiglio quindi provatela non costa neanche tantissimo vi lascio in info box il link per acquistarla io l'ho acquistata su Amazon questa spazzola qua invece la Janek che trovate anche un video sul mio canale YouTube la utilizzo solo su capelli bagnati quindi quando ho in posa la maschera con il balsamo quando risciacquo i capelli magari mi è rimasto ancora qualche nodo utilizzo questa utilizzare questa spazzola come vi ho accennato ho provato diversi districanti e ho scoperto che Divina aveva un districante cioè come ho fatto non pensarci prima a provare direttamente quello di Divina come sapete io utilizzo i prodotti Divina da tantissimo i miei capelli cioè i miei capelli proprio amano i prodotti Divina e quindi non so perché non mi era mai venuto in mente di provare il loro districante comunque ho deciso di provare il loro districante ragazze ed è fantastico guarda ho deciso proprio di farci un video su questo districante perché secondo me merita secondo me io lo potrei eleggere come prodotto dell'anno per me è stata insieme a questa la mia rivoluzione perché questo districante ragazze contiene un sacco di estratti naturali all'interno quindi contiene aloe vera camomilla proteine della seta insomma ragazze un sacco di proprietà che sono emollienti per i nostri capelli quindi ci aiutano a sciogliere i nodi ma può essere utilizzato diciamo anche proprio come refresh quindi la mattina se volete diciamo andare a dare forma ai vostri ricci potete utilizzare questo districante questo districante è la cosa bella che può essere utilizzato anche su capelli asciutti e anche su quelli bagnati ragazzi questo è un prodotto proteico ed è approvato dal metodo perché non è facile trovare districanti approvati dal metodo per chi li segue sempre se volete provare i prodotti di Vina non c'è un minimo d'acquisto potete utilizzare il mio codice sconto annunziata 20 con il quale avrete il 20% di sconto ve lo dico perché mi arrivano sempre tantissime richieste a riguardo adesso vi faccio vedere e facciamo insieme questo passaggio ecco come districo i capelli è proprio la giornata giusta perché ho un sacco sacco di nodi ragazzi cosa faccio? come prima cosa vado a spruzzare tutto il districante sui capelli asciutti vado soprattutto a esistere nelle zone dove ho i nodi quindi soprattutto qua dietro e poi c'è un profumo vabbè i prodotti di Vina ragazzi hanno tutti dei profumi fantastici poi con le mani vado proprio a fare questo passaggio qua scusate ragazzi se ho i capelli bianchi ma ancora non ho avuto tempo di farli con un vivo di 5 mesi il tempo che si è a disposizione è davvero pochissimo la piccola è nel bosco la piccola è nel bosco la piccola è nel bosco cari capelli come sapete bisogna sempre sempre partire dalle punte quindi mi raccomando fate sempre questo movimento qua così in questo modo andiamo a spezzare meno i nostri capelli quindi mi si formano spesso i nodi ragazzi su questa parte della testa alta ultimamente non so come mai però vi assicuro che si formano i nodi a tempo ho già districato quasi tutti i capelli cioè per farvi capire quanto il districante fa veramente la differenza inoltre ragazzi districare i capelli ho notato da asciutti mi aiuta a rendere molto di più durante il lavaggio perché praticamente prima di tutto la cute andrà veramente a lavarsi bene perché i capelli sono liberi dai nodi e quindi riusciamo a lavare meglio i nostri capelli e soprattutto anche i trattamenti quando li applicheremo con i capelli bagnati come le maschere, il bassamo riusciranno soprattutto a storbire di più le sostanze e i nutrienti quindi io ragazzi veramente mi sto trovando benissimo per me è un passaggio fondamentale che ormai non mancherà più nella mia routine per capelli ricci quindi ho districato finalmente tutti i capelli quindi adesso sono anche pronta per farmi il colore perché no visto che ormai sono belli districati e voilà in pochissimo tempo ragazze ho districato praticamente i miei capelli e sono finalmente tutti liberi dai nodi la spazzola finalmente passa senza problema adesso vi faccio vedere quanti capelli ho perso per districare quanti capelli ho perso districando con la spazzola guardate un po' questa è la quantità che ho utilizzato che ho perso di capelli ragazzi questa quantità qua io quando li pettino da bagnati ne perdo il quadruplo perché secondo me i capelli da bagnati tendono ad essere più fragili e quindi secondo me ne perdiamo molti di più niente ragazze detto questo spero che questo video vi sia stato utile e soprattutto vi abbia fatto vedere anche una versione diversa di solito da quello che si può dire in giro sui capelli se vanno pettinati prima o dopo fatemi sapere la vostra mi raccomando come sempre ci tengo tantissimo e se provate questo metodo per districare i vostri capelli mi raccomando taggatemi fatemelo sapere nei messaggi nei commenti perché per me è sempre molto è sempre molto bello poter condividere le vostre opinioni e niente detto questo io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video un bacione alla prossima ciao ciao